Ieri in Consiglio Comunale sono state approvate tre importanti delibere in materia urbanistica. Si tratta in particolare dei lavori per la Facoltà di Medicina e Chirurgia a Scampia, del completamento di 32 alloggi di edilizia residenziale pubblica a Ponticelli e del recupero architettonico e funzionale di un immobile in via Cristallini da destinare a casa albergo per anziani. L'Università di Scampia si lega al programma Restart Scampia del Comune di Napoli, vale a dire il grande progetto di trasformazione che stiamo portando avanti sull'intero Lotto M e naturalmente è impensabile portare avanti un programma così grande se non si completano anche quelle che sono le attrezzature pubbliche, come nel caso l'Università e la Facoltà di Scampia. Solo adesso, dopo la delibera di ieri, si potranno redigere gli atti di spesa, dovranno essere concessi anche dalla Regione i 5 milioni e mezzo, cioè sbloccati subliminatamente dopo. E a questo finanziamento andrà aggiunto un altro finanziamento di 20 milioni di euro che riguarda il completamento, e qua già siamo partiti, e poi il bando per tutte le attrezzature. Noi riteniamo che fine 2019, inizio 2020, l'opera, ma completa anche delle attrezzature, degli arredamenti necessari alla messa in funzione, potrà essere pronta. Analogo discorso, per importanza, riguarda i 32 alloggi che ieri abbiamo approvato in Consiglio Comunale per il Campo Evangelico. Le casette che abbiamo lì sono ancora del post-sisma degli anni Ottanta, quindi finalmente noi con questa delibera e con la dotazione che abbiamo provveduto a effettuare ieri, finanziamo definitivamente le 32-32 alloggi previsti per i due edifici che stiamo portando avanti nell'ambito del PRU, di Ponticelli. Cristallini, invece, consente, attraverso una dotazione economica, anche qui che è stata realizzata dal Comune di Napoli, consente di portare a termine una residenza per anziani, un'attrezzatura pubblica nell'area della sanità. Era necessario questo ulteriore intervento anche per un progetto che dovrà essere redatto dall'ufficio UNESCO e porteremo a termine con soluzioni, diciamo, definitive in questo senso. Ma anche ci avviamo, in quanto una parte dell'immobile è già terminato, ci avviamo anche alla possibilità, insieme con la Municipalità, di ingressi temporanei e un'utilizzazione temporanea. Grazie.